Allora, ci sono molti modi per interpretare questa ennesima sconfitta del Milan, la seconda consecutiva dopo tre vittorie consecutive in campionato, una delle quali il derby. Una è vedere il bicchiere mezzo pieno, l'altra è vedere il bicchiere mezzo vuoto. Cerchiamo però di fare una sintesi di cosa è andato bene e di cosa è andato male. Allora, paradossalmente il Milan perde 2-1 dopo una partita in cui ha effettuato otto tiri in porta a tre. Quindi tu vai in trasferta con la Fiorentina, vai alla conclusione otto volte contro tre della Fiorentina e dici, beh, io ho fatto il mio dovere, il mio mestiere, ho giocato una partita positiva. Eppure perde 2-1 il Milan, perde malgrado abbia avuto due rigori a favore falliti entrambi, incredibilmente, prima da Teo Hernandez e poi da Abram, e dopo che però è stato salvato anche da Mignano su un calcio di rigore a favore della Fiorentina. Quindi dire otto conclusioni a rete, due rigori sbagliati, abbiamo fatto tutto quello che era possibile per vincere, siamo stati sfortunati, può essere un'interpretazione. Io credo che però quando si è una grande squadra come il Milan, come l'Inter, come la Juventus, come il Napoli, non ci si può limitare a dire sono stato sfortunato. La grande squadra vince anche contro la sfortuna, soprattutto se poi la sfortuna se la tira in casa, perché i rigori sbagliati sono una colpa grave di chi li ha battuti. E in generale dobbiamo invece vedere anche cosa c'è che non va nel bicchiere mezzo vuoto. Nel bicchiere mezzo vuoto c'è il fatto che il Milan un anno fa, dopo sette partite di campionato, aveva 18 punti, e quest'anno il Milan ne ha soltanto 11, cioè il Milan viaggia a una media di 1,5, poco più di 1,5 punti a partita. Zero punti in due partite in Champions League. Quindi le partite sono diventate nove. Nelle ultime partite ci sono state tre sconfitte, due pareggi, scusate, quattro sconfitte, due pareggi e tre vittorie. E insomma è tutto un momento, sportivamente parlando, pessimo, che sfiora il disastroso. Non ci si può accontentare di aver vinto bene un derby se poi dopo sette di campionato e due di Champions, tu sei sesto in classifica e a zero punti ultimo in Champions League, al di là del fatto che avevi degli avversari molto forti. Ma abbiamo capito che il calcio fortunatamente fa vedere anche avversari più deboli che ogni tanto vincono contro avversari più forti. Ecco, in Milan tutto questo non è mai riuscito a farlo se non nel derby. Che cosa non sta funzionando? Tante cose, ovviamente, ma c'è un problema, a mio avviso, che riguarda l'allenatore. Perché? Non soltanto per la questione tattica, per l'incapacità di fare punti, per arrivare tante volte a casa, ed è successo anche nell'ultima partita di Champions, nella trasferta in Germania, come con la Fiorentina, dicendo però non abbiamo giocato male. Un grande club quando dice non ho giocato male e perde, a mio avviso, è due volte colpevole. Perché se tu giochi bene e non vinci, pensa quando giocherai male. Quindi questa è intanto una contraddizione che deve essere chiarita subito. Ma soprattutto noi vediamo una squadra che non ha il leader in panchina. Quello che è accaduto nella partita con la Fiorentina, e cioè la espulsione del capitano Teo Hernández, dopo la partita con Teo Hernández che infama l'arbitro pairetto, arbitro mediocre, ma insomma tale è, lo sapevamo, non ha inciso in maniera determinante sull'esito dell'incontro, dà anche la dimostrazione di un allenatore che non riesce minimamente a tenere a livello nervoso i suoi giocatori più importanti. Ora possiamo anche essere d'accordo che Teo Hernández e Leao sono due calciatori caratterialmente bizzosi, ma è altrettanto vero che per anni in qualche modo sono stati gestiti. Ecco, non essere in grado di contenere l'umoralità, il tasso nervoso di molti giocatori, di molti senatori, pensate a Tomori, ammonito per proteste assurde nel primo tempo, dà la dimostrazione di come l'allenatore non abbia grip, diciamo, sulla squadra, come non sia riconosciuto dai giocatori come un leader, perché ognuno fa quello che gli pare e abbiamo avuto, purtroppo, più di una dimostrazione in questo senso. Pensate alla famosa vicenda con in break, non si è mai visto prima, due calciatori importanti. Guarda caso proprio Leao e Teo Hernández che si rifiutano di avvicinarsi alla panchina durante il con in break, in protesta evidente per essere stati esclusi da una partita con la Lazio. Abbiamo visto Leao andarsene via nel derby e andare a brutto muso davanti all'allenatore mentre intanto Mina segnava il gol della vittoria. Abbiamo visto ieri di nuovo Teo Hernández che verrà squalificato, temo, essendo capitano per almeno due partite per aver insultato l'arbitro, senza peraltro una evidente ragione. Ecco, tutto questo fa pensare che non sia tanto e solo un problema tattico, poi c'è un altro tipo di problema che adesso affronteremo nel Milan, ma ci sia anche proprio una questione di leadership della panchina. Voi pensate che sarebbe stato possibile vedere atteggiamenti di questo genere? Citiamo sempre i soliti casi, con Antonio Conte in panchina? No, evidentemente no. Serve un allenatore che plachi, che contenga, che annulli certe impennate caratteriali di alcuni giocatori che pensano purtroppo spesso e volentieri più a fare le loro scene in campo. Pensiamo a Leao che va a zittire il pubblico dopo un gol, pensiamo a Teo Hernández che più o meno ha fatto altrettanto così con la manina, che insultano l'arbitro, che hanno degli atteggiamenti sbagliati. Tutto questo dà la dimostrazione di una squadra che è anarchica, che non è in qualche modo disciplinata, anche un po' a livello militare se vogliamo, gerarchico da parte dell'allenatore. Questo non è un problema di poco conto. Perché noi non vediamo queste cose nella Juventus? Perché non vediamo queste cose negli ultimi anni nell'Inter? Sì, c'era stato, ve lo ricorderete, una volta Lautaro che aveva risposto Mosuduro a Conte e poi ci fu un chiarimento anche abbastanza evidente. Ecco, tutto questo perché probabilmente Fonseca non era l'allenatore giusto per un certo tipo di caratterialità dei giocatori. Pioli aveva evidentemente trovato una chiave diversa. Questi fanno quello che gli pare. Nel fare quello che gli pare si dimenticano, per esempio, Teo Hernández di essere gravemente colpevole per come è andata la partita. Perché Teo Hernández è stato colui il quale ha provocato il calcio di rigore della Fiorentina. Lasciamo stare che poi Mignan ci abbia messo una pezza ed è stato quello che ha sbagliato il calcio di rigore per il Milan. Teo Hernández deve lasciare il campo deluso, arrabbiato, determinato, senza fare scena isterica con l'arbitro, senza farsi squalificare dall'arbitro. Se non si riesce a contenere questo, al di là del fatto che probabilmente ha un carattere difficile, ma insomma gli allenatori bravi sono quelli che riescono a domare i caratteri più difficili, diventa difficile proprio anche pensare che il Milan possa avere un futuro sereno. Chiudiamo con il discorso degli attaccanti. Il Milan segna, ma segna spesso e volentieri con gol non dei suoi attaccanti. Allora, Leao, che è uno che ha una media di 12-13 gol a campionato giocando sull'esterno sinistro, ne ha fatto soltanto uno. Abram ne ha fatto soltanto uno su rigore. Morata ha segnato soltanto due reti. Ecco, Pulisic è l'unico che sta tenendo fede e ha già segnato sei gol. Sei gol da Pulisic, uno solo da Leao. Uno solo da Abram su rigore e due gol soltanto da Morata. Anche qui, evidentemente c'è stato un errore. Il primo errore è a monte, cioè pensare che Leao fosse un giocatore destinato a una crescita esponenziale. Leao è questa roba qui, lo è ormai da tre anni. A volte meglio, a volte peggio, ma il suo rendimento è ormai stabilizzato in questo senso. È un incostante. A volte fa delle cose straordinarie, altre volte si assenta dalla partita e non puoi contare su di lui. Non sai mai come giocherà la partita, come scenderà in campo. Il problema grosso mi sembra invece quello di Abram e di Morata. E cioè, il Milan prende Morata convinto di aver preso un'alternativa valida a Giroud, cioè un calciatore, un centramanti che faccia più o meno i gol di Giroud, magari con un po' più di mobilità, con più voglia di battersi. E purtroppo da questo punto di vista Morata finora è stato deludente. Il Milan prende Abram come alternativa Morata, non capendo che invece è un problema grosso, perché si chiama Loftuscik, decide a un certo punto, dal derby in avanti, di giocare con due centramanti a retrando Morata, ma, sorpresa, Abram fa meno gol di Jovic. Sembrava più ficcante, decisivo, determinato, così non è. Se mettiamo insieme quindi a una certa anarchia della squadra non plasmata dall'allenatore, il fatto che l'attacco per ragioni invece è indogene, cioè fuori forma, non si capisce bene, non segna quanto dovrebbe. A quest'ora, a questo punto, dopo nove partite di campionato, Leao avrebbe dovuto già segnare almeno due o tre gol, perché la sua media era di un gol ogni due o tre partite negli anni scorsi. Invece ce n'ha fatto soltanto uno. A questo punto, dopo nove partite di campionato, Morata avrebbe dovuto segnare tre o quattro gol. Invece ce n'ha fatti la metà. Abram non ha mai fatto gol. Ecco, se non su rigore, anche questo diventa un problema grosso. Se tu hai un attacco, quattro punte, perché giochi con quattro punte, per quanto gli ha retratto un po' Morata, ma di mestiere fa il centro avanti, e questi non fanno mai gol, e i gol ti arrivano magari da altre opportunità, da altri giocatori, ecco, da gabbia, caso derby, c'è qualcosa che non va anche lì. La domanda è cosa fare. E la risposta non è facile. Non è che si cambia per cambiare, però credo che il Milan oggi debba essere messo di fronte ai dirigenti, che sono stati, a mio avviso, spesso e volentieri inadeguati nel cercare di aiutare Fonseca, che sembra essere un po' troppo lasciato solo in panchina. I dirigenti, a cominciare dal signor Ibrahimovic, dovrebbero valutare velocemente in questa pausa di campionato se ci sono gli estremi per continuare a lasciare le redini della squadra e di questi giocatori bizzosi a Fonseca, o se non sia il caso invece di rivolgersi a un altro allenatore, a un altro tipo di allenatore, che non deve avere tanto, a mio avviso, delle idee tattiche così diverse e rivoluzionarie, ma che deve essere capace di tenere a bada troppi galletti, che anziché pensare al bene della squadra, pensano soltanto a beccarsi tra di loro, con il pubblico o con un arbitro. Quando il Milan uscirà da questa incredibile contraddizione che curiosamente appare nel Milan di Fonseca, soltanto da inizio stagione, in termini così evidenti e per certi versi disastrosi, soltanto in quel momento il Milan potrà pensare a un futuro più roseo. È una riflessione però da fare molto velocemente e molto velocemente deve essere anche trovato, a mio avviso, l'allenatore adatto per rimettere nei ranghi troppi galletti in un pollaio che non sta producendo quasi niente, purtroppo, per una tifoseria che dopo la passata stagione piena di amarezze è ripartita in quest'altra con molti dubbi legati a un mercato abbastanza incomprensibile e a una scelta dell'allenatore altrettanto incomprensibile che si ritrova dopo nove partite messa molto peggio paradossalmente di un anno fa dopo lo stesso numero di gare. Grazie.